Presidente Federiga, la Lega Nord chiede al Governo dove sono finiti i soldi per la cassa integrazione in deroga. Sì, purtroppo il Governo ha provveduto celermente a trovare i miliardi, anche con scoperture ipotetiche non certe, per la campagna elettorale di Renzi all'europea, invece non trova i soldi necessari per pagare le ammortizzatori in deroga per i lavoratori che da mesi non percepiscono alcun euro da parte dell'Inps. Voglio ricordare che sono accordi già firmati, ma questi lavoratori dal Governo Renzi, dal Ministro Poletti, sono ridotti alla povertà. Chiedete quindi un intervento immediato in aula per spiegare qual è la situazione da parte del Ministro? Chiediamo che il Governo, nella persona del Ministro Poletti, venga a riferire in aula per farci capire le intenzioni del Governo e mettere l'esecutivo nell'angolo perché non è che deve dare risposta alla Lega, ma deve dare risposta a decine di migliaia di persone che rischiano di essere abbandonate a loro stessi in un momento di dramma economico.